molto spesso questo aspetto viene ritenuto secondario invece è fondamentale per dare un movimento bello e realistico alle nostre relazioni dopo diverse prove che quelle indirò questo video di seguito sono le dimensioni che mi hanno dato i risultati migliori ovviamente ognuno può variare e trovare la propria combinazione vincente e magari ottenere anche dei risultati migliori dato per assunto che la sagoma sarà un qualcosa a forma di pesce più o meno alta queste sono le dimensioni che uso espresse in maniera percentuale ponendo 100 la lunghezza totale dell'artificiale swing bait a due sezioni 50 per cento il primo segmento e 50 per cento il secondo segmento senza distinzione se si tratta di swing bait con paletta o senza 60 per cento il primo segmento e 40 per cento il secondo segmento in questo caso questo vale principalmente per le swing bait dotate di paletta swing bait a tre sezioni 50 per cento il primo segmento 25 per cento il secondo segmento e 25 per cento il terzo segmento valida per tutti i tipi di swing bait 50 per cento il primo segmento 50 per cento il secondo segmento 30 per cento il terzo segmento e la proporzione che mi ha dato i risultati migliori in termini di movimento soprattutto sulle swing bait senza paletta swing bait in quattro sezioni 52 per cento il primo elemento 14 per cento il secondo elemento 17 per cento il terzo e il quarto elemento questa è la combinazione mi ha dato i migliori risultati in assoluto per le swing bait dotate di paletta 50 per cento il primo segmento 16 per cento il secondo segmento 16 per cento il terzo segmento 18 per cento il quarto segmento questo invece sono le proporzioni che uso normalmente per le swing bait senza paletta ovviamente queste misure sono calcolate sul grezzo prima di effettuare il taglio una delle cose fondamentali a va considerato è la dimensione della prima sezione perché è quella che dà l'innesco al movimento ed è quella che si trascina dietro le altre per cui secondo me questa deve deve avere dimensioni maggiori rispetto alle altre soprattutto nel caso di più di due sezioni perché altrimenti si rischia che la forza di inerzia di questa non sia sufficiente a vincere l'inerzia delle altre sezioni quindi pregiudicando il movimento globale il che non vuol dire che non si riesce a fare muove artificiali in cui la prima sezione è più corta delle altre però sicuramente più difficoltoso ottenerlo e comunque occorrerà porre molto più attenzione proprio al movimento reciproco tra le sezioni dove e come posizionare la zavorra è un altro punto cardine nella costruzione delle swing bait perché soprattutto in quelle senza paletta ha una incidenza diretta sul tipo di movimento che andremo ottenere per capire meglio ho preparato un piccolo schema assuntivo diviso in base al tipo di swing bait che poi si approfondirò meglio swing bait con paletta per prima cosa occorre permettere che il posizionamento della zavorra in questo tipo di swing bait segue grosso modo la stessa logica degli altri tipi di artificiali dotati di paletta considerando il fatto ovviamente delle sezioni che possono essere più di due quindi vi invito anche in questo caso andare a vedere l'altro mio video in cui spiego la logica e la teoria su posizionamento della zavorra sugli artificiali innanzitutto dobbiamo tenere conto di quante sezioni vogliamo realizzare e quanto ampio dovrà essere lo scarto laterale del nuoto che vogliamo ottenere la cosa però che non dobbiamo mai dimenticare è che dobbiamo sempre avere un assetto neutro in acqua cioè che a prescindere se facciamo un artificiale galleggianti o affondante questo in fase di riposo stia in posizione rizzontale non affondi né di testa né di muso nel caso di artificiali a due sezioni la totalità o quasi della zavorra va inserita nel baricentro dell'artificiale se vogliamo dare un movimento più largo distribuiamo la zavorra tra le due sezioni che dovranno essere piuttosto similari come dimensioni e comunque a ridosso dello snodo facendo sempre attenzione di mantenere l'assetto neutro in acqua nel caso di tre sezioni la zavorra va posizionata circa al 70% nella prima sezione e circa al 30% sulla seconda nel caso di quattro o più sezioni ma oltre quattro diventa un puro esercizio di stile che non si hanno grossi vantaggi sul movimento infatti io non le faccio mai più di quattro sezioni la zavorra va posizionata circa all'80% nella prima sezione più o meno a ridosso del baricento e al 20% sulla terza lasciando prive di zavorra la seconda e la quarta cioè l'ultima in realtà si potrebbe anche posizionare la zavorra sulla seconda sezione e invece sulla terza ma così si ottiene un movimento più stretto e più frenetico mentre se si appesantisce un pochino la terza sezione dove ho detto io il movimento diventa più largo e più marcato simulando soprattutto nei recuperi lenti un pesciolino che pinneggia tranquillo e placido rimanendo in tema di zavorra e quindi di assetto nelle swing bait dotate di paletta che questa sia galleggiante, suspending o affondante non cambia poco, cambia poco o niente ovviamente cambia poi la paletta che vogliamo mettere perché essendo quella che darà il movimento maggiore sarà il peso del nostro artificiale più fatica dovrà fare quindi dovremo adeguarla come dimensioni appunto al lavoro che deve svolgere swing bait senza paletta nel caso di due sezioni che a parere mio dovrebbero essere l'incirca delle stesse dimensioni il peso aggiuntivo va distribuito equamente tra i due segmenti e generalmente si posiziona centralmente a ridosso dello snodo nel caso di tre o più sezioni il peso va inserito per la maggior parte 60-80% dipende ovviamente poi dalla sagoma sul primo segmento a ridosso dello snodo e il residuo sul secondo sempre cercando di stare vicino allo snodo di collegamento con il primo se si hanno più di tre sezioni e però come detto prima io non andrei mai oltre le quattro si può spostare un po' di zavorra anche nel terzo segmento ma senza esagerare perché poi si potrebbe andare a smorzare troppo il movimento ovviamente vale quanto detto anche per le simbette dotate paletta e cioè che l'affondamento deve essere neutro senza smilanciamenti in testa o in coda a prescindere da queste schematizzazioni occorre capire bene le implicazioni sul movimento dovute alla zavorra e qui però occorre mettere in campo un concetto base di fisica che è la forza di inerzia aggiungendo zavorra non si fa altro che aggiungere massa e maggiore è la massa maggiore è la sua forza di inerzia guardiamo a pratico cosa vuol dire nel nostro caso prendiamo una simbette a due sezioni senza paletta per non complicarci troppo le cose con gli snodi ma in modo da capire un attimino il concetto posizionando la zavorra nei due snodi ma comunque a ridosso dello snodo si ha che il centro dell'artificiale ha più massa della testa e della coda questo fa sì che la testa si sposti più facilmente del centro perché ha meno inerzia avendo meno massa il centro tenderà a rimanere più fermo per cui il frucco del movimento mi diventa lo snodo stesso di conseguenza otteniamo un movimento abbastanza frenetico e scolettante ma che rimane abbastanza in asse rispetto alla linea di trazione se invece distribuiamo la zavorra per una parte maggiore della lunghezza dell'artificiale si ha una maggiore difficoltà a innescare il movimento proprio perché non c'è un punto dell'artificiale che ha meno forza di inerzia ma una volta è partito lo scarto laterale la sua forza di inerzia che appunto è ugualmente distribuita lo farà allargare molto di più rispetto a prima per cui riusciamo ad ottenere delle S quindi un movimento side to side molto allargato occhio però a non esagerare con la distribuzione portandolo troppo in testa o troppo in coda perché così avremo una grossa difficoltà a innescare il movimento proprio perché c'è parecchia massa nei punti iniziali o finali e quindi andiamo a sforzare proprio l'innesco del movimento in questo tipo artificiale in genere l'assetto che andremo a cercare sarà un assetto slow sinking perché è quello che garantisce il maggiore effetto realistico ma con trenamenti a quanto molti pensano si possono fare tranquillamente artificiali anche molto molto pesanti e il movimento se ovviamente distribuiamo in maniera corretta come ho detto prima la zavorra sarà solo lievemente intaccato da appunto la maggiore zavorra per quanto riguarda il mio consiglio negli artificiali che vogliamo fare molto affondanti cerchiamo di ottenere un movimento più scolettante rispetto a un movimento con un grosso side to side proprio perché il maggiore peso porta a avere più difficoltà ad innescare lo scarto laterale si possono fare tranquillamente anche i calleggianti e ce ne sono tanti in commercio attenzione che però questi screenbait tenderanno a non reggere movimenti molto veloci perché appunto non avendo paletta tenderanno poi se recuperano troppo velocemente a semplicemente schippare sull'acqua grazie a tutti